Ciao a tutti popolo del tubo bentornati in un altro test mod ragazzi vi presento un'altra mod di Sanpei di Sanpei FS ragazzi e questa volta, no non è questa la mod che la conoscete benissimo anche se comunque ve la rimetto in descrizione, questo l'abbiamo già visto nella scorsa puntata è il punto vendita e funzionerà da punto vendita anche questa volta ma la mod ragazzi questa volta è il vigneto, un bel vigneto ragazzi, un bel vigneto posizionabile ovviamente lo troveremo, questo è il consorzio ragazzi, lo troveremo tra i posizionabili eccolo qua, eccolo qua, vigna ragazzi, eccolo qua, questo è il bel vigneto che come vedete necessita di acquetta e cacchetta allora, quando voi andrete a metterlo, diciamo a posizionarlo, io vi consiglio ovviamente di metterlo in un campo bello spianato, come si può dire, un bel campo piano perché altrimenti rischiate che si nasconda qualche cosa o che trovate diciamo il vigneto sospeso nel nulla, quindi mi raccomando sempre, sempre dove è diciamo eccolo qua, vedete, adesso vi faccio vedere quello che intendo se voi lo mettete dove il campo è piano, vedete funziona tutto bene alla grande se voi lo mettete dove il campo non spiana, ecco qua che vi trovate magari la vignetta sospesa nel nulla quindi mi raccomando, mettetelo dove è piano, guardate che bellezza e che spettacolo questo è il nostro vigneto, ne potete mettere quanti ne volete e ovviamente poi dovete ripetere anche la procedura qui ragazzi accetta il letame, mi pare che dalle texture sia abbastanza ovvio e poi accetta fertilizzante ed acquetta allora vediamo un attimino di capire dove sono i trigger adesso mi sto ammazzando mettiamo il tastettino, il tastettino non si può sentire, il tasto F5, questo ovviamente è quello dell'etame e questo è quello mi sembra dell'acqua, perché mi sembra che accetti solo acqua e fertilizzante e non fertilizzante, adesso vediamo, questo comunque, si no, si, vediamo, dai lo scopriamo insieme adesso ragazzi andiamo a vedere come funziona la mod, del resto io le sto scoprendo insieme a voi in diretta ok, allora partiamo con l'etame, io ragazzi per comodità mi sono preso un punto di ricarica dell'etame un momento, aspettate che sto sbagliando tutto, ok allora, adesso l'etame ragazzi noi lo scarichiamo qua così, ok, non abbiamo problemi con l'etame, perfetto mentre che qui scarica l'etame, vedete ragazzi, e voilà mentre che qui scarica l'etame, noi andiamo a scaricare l'acquetta che abbiamo preventivamente caricato da questo posizionabile qua quindi mi sono reso le cose facili, sì ragazzi, mi piacciono le cose facili passiamo in mezzo al vigneto, va, che così è pure più bello passiamo in mezzo al vignetino e mi apro il tasto F1 Robby, ma sempre i danni devi fare mi apro i tasti F1, così vedo dove è bene il trigger il trigger, perché qui ce n'erano due di trigger, se non sbaglio vediamo quale sarà il trigger dell'acqua allora, allora, qua che mi dice qua mi dice scarica, vediamo però no, però non è acqua, quindi non funziona e quindi è questo il trigger è questo il trigger, il trigger dell'acqua ragazzi, voi venite qua fate una bella retromarcettina e scaricate l'acqua quindi qui ragazzi ci va l'acquettina quindi noi abbiamo scaricato finora l'etamino e acquettina qui ci vedete qua dentro ci sono altre due tannicozze sinceramente non so se servono o meno vediamo un attimino è una cosina che dobbiamo ancora vedere e soprattutto non vedo non vedo, ah ok, non c'è il monitor diciamo per vedere quello che serve basta capire l'F1 quando siete in mezzo alla vigna quindi serve l'etame, acqua e fertilizzante perfetto ragazzi quindi adesso noi una volta scaricata l'acqua ci dobbiamo andare a caricare del fertilizzante per fare ciò andiamo allo shop ci carichiamo un po' di fertilizzante quindi ragazzi io faccio un piccolo taglietto ci sentiamo tra un attimo e allora ragazzi eccoci qua con il nostro bel carro di fertilizzante solido e andiamo a scaricarlo quello liquido non ce lo prendeva vediamo se prende il fertilizzante solido oppure magari se non prende nemmeno questo solido sono problemi di botte diciamo ok, proviamo a farlo con un'altra botte ok siamo sul trigger no, no, il fertilizzante solido lo prende ragazzi ecco qua quindi ragazzi c'ha bisogno di fertilizzante solido mi raccomando e non liquido allora mettiamoci qua adesso ragazzi aprendo il tasto F1 dovremmo avvicinarci e vedere che praticamente il gioco c'ha tutto quindi adesso mandiamo avanti un pochettino il tempo e ecco qua guardate che spettacolo mandando avanti il tempo parte l'animazione vedete che praticamente spruzza sul vigneto un misto di acqua e fertilizzante quindi ragazzi non ci avviciniamo troppo perché c'è anche il fertilizzante in mezzo non vorrei che inalarlo si dice inalarlo che inalarlo possa farci male però guardate che spettacolo ragazzi cioè Sunpei se ne inventa ragazzi di tutti di tutti di tutti i colori ragazzi guardate anche in lontananza voi già potete vedere se il vostro vigneto praticamente è carico di roba o no perché se tutto diciamo quello che accetta è carico c'è l'animazione se qualcosa finisce l'animazione si stoppa e finisce lì quindi ragazzi è utile anche per quello oltre che bello visivamente come potete vedere ha iniziato a produrre uva noi mandiamo avanti e cerchiamo di mandare avanti la produzione di uvetta allora ragazzi come si fa come si fa per caricare la nostra uva ve lo dico io basta mettersi diciamo sopra il trigger delle file che è lo stesso trigger che vi fa diciamo vedere la produzione a che punto è venite qua con un qualsiasi rimorchio ripeto un qualsiasi rimorchio e come vi dice il 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 riquadro F1 con il tasto R ricaricate ragazzi vedete e lui vi ricarica le la vigna ovviamente potete starvene tranquillamente fermi qui e lui vi ricarica però io per fare una cosa più carina vi consiglio di camminare tra una fila e l'altra e viene una cosa diciamo molto più bellina vedete camminate tra una fila e l'altra lui continua a ricaricare e poi quando vedete che si ferma vi rimettete in un'altra fila ripartite con il tasto R ecco magari spingete il tasto che ne so ho sbagliato magari ecco settate la velocità a 10 km orari e con il tasto con il tasto 3 camminate fra una fila e l'altra e guardate che spettacolo ovviamente potete fare questo tipo di lavoro anche quando è finito qualche prodotto quindi ad esempio se non volete vedere l'animazione quella lì mentre che raccogliete voi mandate avanti il tempo mandate avanti finché finirà qualcosa finirà l'acqua finirà il concime adesso vediamo quanto dura non consuma tantissimo la vigna in effetti dura dura la roba apriamo il tasto F1 vedete c'è ancora è il fertilizzante quello che finisce prima ecco qua ragazzi mandiamo avanti un altro giorno così vediamo un attimino la luce del sole ecco fatto allora finita l'animazione voi vi trovate questo ben raccolto e iniziate iniziate a passare fila per fila passate dentro ecco fatto ragazzi caricate come se non ci fosse un domani ecco qua vedete con il tasto 3 camminate piano piano caricate e vedete che il vigneto vi dà la vostra bella uvetta e questo ragazzi insomma è tutto è tutto insomma vi ho fatto vedere vi ho fatto vedere un po' come funziona per quanto riguarda il punto vendita però c'è un problema nella descrizione avevo letto che quel punto vendita lì accettava accettava anche l'uva e invece non accetta l'uva ma è un altro punto vendita quello che accetta l'uva ragazzi e ve lo metto in descrizione quindi lo troverete in descrizione non vi preoccupate detto questo ragazzi io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale lasciare un polliciotto se vi è piaciuto questo test mod in descrizione trovate anche tutto il blog di Sanpei insomma tutto tutto quello che vi serve e necessario e anche i miei social da facebook a instagram e il server TS ragazzi io vi ringrazio di aver seguito questa bella puntatina e vi rimando alla prossima puntata della prossima test mod insomma quello che sarà non lo so adesso vediamo ciao ciao belli ciao ciao Grazie a tutti.